L'attuale cosiddetto presidente degli Stati Uniti ci chiama spazzatura, quindi ci presentiamo come spazzatura. Ci stiamo comportando coraggiosamente perché siamo sostenitori di Trump. Quindi puoi spiegarmi come indossare i sacchi della spazzatura dimostra che non sei spazzatura? La signora mostra lo slogan. Biden ci chiama spazzatura, Trump ci chiama americani. Beh, ma ti sei vestito come ti ha definito Biden, non come ti ha definito Trump. Beh, penso che a questo punto stiamo prendendo la cosa un po' ironicamente. Beh, penso, dice l'intervistatore, avrebbe senso se ti vestissi con la bandiera americana, visto che Trump ti chiama americano. Sono confusa, dice la signora. Eh sì, c'è tanta confusione in giro, amici e amiche. Quindi benvenuti, benvenute in questo nuovo video. Oggi ci saranno tanti argomenti, si parlerà della Moldova, si parlerà della situazione in Ucraina, delle elezioni americane. Ci saranno tanti argomenti, dei soldati norcoreani, quindi mettetevi comodi. Come sempre, prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Qui sotto al video trovate tutti i pulsanti di YouTube per sostenermi. Sono giorni un po' difficili, lo ammetto perché i contenuti che spesso vi porto in questo periodo di elezioni sono molto monitorati, è molto difficile ottenere la monetizzazione, quindi spesso se pubblico in tardo pomeriggio è perché ho fatto diversi tentativi per riuscire a ottenere la monetizzazione e poi mi viene rifiutata e devo riprovarci e riprovarci. Quindi eccomi qui. Allora, per restare sul tema di spazzatura e elezioni americane. Ora, non so se appunto avete colto l'ironia di questi due soggetti che non hanno capito molto, però mi collego al fatto che qualche anno fa qualcun altro in Italia aveva definito gli italiani zebedei, ok? Quindi provate a immaginare la gente che andava in giro vestita così. Tra l'altro è un costume vero e uno potrebbe anche comprarselo. Già. Costumi così esistono, voglio dire, ci sono. Poi uno può anche scegliere il tema, può vestirsi di marrone. Eh sì, lo fanno, lo fanno. Ma comunque passiamo avanti, ma per restare sempre sul tema del marrone, in questi giorni i meme su X sono uno spasso. Per esempio, a proposito della Moldova, che come sappiamo è riuscita a vincere il ballottaggio e ha superato l'enorme pressione di propaganda e soldi versati dalla Russia per compromettere queste elezioni. In poche parole il ballottaggio, che è stato vinto con un bel po' di vantaggio, non tantissimo ma comunque molti di più rispetto alle prime elezioni. Quindi, insomma, questa vignetta si commenta da sola, non faccio nomi, non faccio nient'altro. Maria Sandu ha vinto, quindi è un'ottima notizia. Bellissimo questo commento. Sai chi vi saluta tantissimo? Ottimo. E quindi, insomma, sappiamo che è stato un fallimento per i tentativi russi di manipolare queste elezioni. Questo, voglio dire, ha vinto con poco margine, ma appunto significa che evidentemente le pressioni esterne non sono bastate. Qui, appunto, è stata accolta con un'ovazione, applausi quando è uscita, quando è uscito l'ex pol. Insomma, è una buona notizia per la Moldova, so che ci tenete. Questa signora sembra davvero gentile. Mi piace. Allora, parliamo brevemente della Russia, perché sono usciti articoli piuttosto interessanti. In poche parole c'è stata una conferenza presso la Duma di Sergei Chemezov, che è un oligarca, il CEO della Rostec, in cui si sta evidenziando un enorme problema economico in Russia. Si sta parlando di stagflazione, cioè, se ho capito bene, poi io non sono un economista, c'è fra di voi sicuramente qualcuno che è più esperto di me, quindi vi passo questi articoli se volete dargli un'occhiata, però pare si sia arrivato al punto in cui non c'è offerta e non c'è domanda e l'inflazione sta galoppando. Ora, i tassi di interesse sono schizzati al 21% venerdì. 21%, cioè, provate a immaginare a comprare una casa dopo praticamente cinque anni e ne pagate due. Cioè, in Italia che abbiamo comunque un bel tasso di interesse attualmente al 3,76, ok? Cioè, giusto per intenderci, 21%. Quindi l'economia russa è a pezzi. E questo, da quello che ho capito, è dovuto al fatto che ormai è completamente orientata ad una economia di guerra, dove tutta la forza lavoro, la produzione sviluppa mezzi. Questi mezzi, fra l'altro, poi vengono mandati al fronte e mica tornano indietro. Non è che li puoi reinvestire il metallo che tu mandi avanti, tutte quelle componenti non ti tornano indietro, sono cose a perdere. Per quanto poi si possa sviluppare un'economia del genere, fine a se stessa, e infatti è un'economia estremamente deleteria. Ho sentito anche altri analisti, altri video che parlano di questo argomento, da cui ho preso anche spunto, lo ammetto. Però molti dicono che l'Unione Sovietica, una delle cause che fece crollare l'Unione Sovietica, fra le tante, fu anche la guerra in Afghanistan. E stiamo parlando dell'Unione Sovietica che era molto più forte della Russia odierna, non forte militarmente, forte economicamente. Quindi la situazione è grave e il fatto che ne parlino apertamente alla Duma, in uno stato in cui parlare è proibito, lascia un po' intendere la gravità della situazione. Ora, non vorrei fare un po' l'allarmista di questo tipo, però è una situazione che ci coinvolge, perché se la Russia dovesse fallire completamente con una repressione tremenda, coinvolgerebbe anche l'Europa. Provate a immaginare milioni di persone che iniziano a uscirsene dalla Russia cercando rifugio altrove. Fra l'altro questo è un problema non da poco, anche adesso, nel senso l'enorme richiesta di mano d'opera ha avuto un calo di offerta, perché gli stessi migranti che prima c'erano, prima dell'inizio della guerra. Adesso ci stanno pensando due volte, perché vedono appunto e sentono che c'è una situazione estremamente instabile economicamente in Russia, non ci sono prospettive. E quindi questo, oltre a questo poi c'è anche il discorso che i russi non è che siano proprio accoglienti, cominciano a non vedere bene un enorme afflusso di popolazioni asiatiche o africane sul loro territorio. Quindi è tutta una concatenazione di eventi che stanno portando all'economia al collasso. E fra l'altro i discorsi vanno visti in una prospettiva a lungo termine. Cioè non è che se domani il signor Putin decidesse di ritirarsi o di smettere di avanzare per portarsi in una guerra, per tenere le posizioni occupate o addirittura ritirarsi del tutto, cioè non è che l'economia russa si riprenderebbe in un attimo, ci vorranno decenni e decenni per uscire da una situazione di stallo del genere. Ora queste sono le mie idee, quindi fatemi sapere anche cosa ne pensate nei commenti. In ogni caso in Russia è iniziato a nevicare, ma anche in Ucraina. Questa era Kharkiv stamattina, arrivano immagini di questo tipo e questo insomma lascia intendere che le cose stanno peggiorando molto velocemente e stiamo arrivando a un punto di freddo vero con neve, come non si vede certamente spesso da noi. Quindi insomma, oltre a questo poi ci sono enormi perdite da parte russa al fronte. Il picco mai raggiunto, stiamo parlando di qualcosa che 10.000 soldati in una settimana, ok? 10.000 soldati in una settimana. Oggi, secondo questo contatore del ministro della difesa, del ministero della difesa ucraina, prendetelo per quello che è, siamo arrivati a 700.000 soldati eliminati, 9.000 carri armati, 18.000 mezzi d'assalto, 20.000 sistemi di artiglieria, insomma questi sono i dati. E questo ci fa capire insomma che sono cifre enormi, 700.000, anche se fosse ribasso sarebbero almeno, almeno mezzo milione di soldati spariti al fronte, che non è una cosa da poco per nessun paese al mondo, non lo sarebbero neanche per gli Stati Uniti e per l'Europa, tutti i paesi europei messi insieme. Figuriamoci per un singolo Stato come la Russia, che aveva una popolazione di quant'era, 140 milioni di persone? Beh, considerate appunto che gli eserciti di paesi europei come l'Inghilterra, la Francia, l'Italia viaggiano nell'ordine dei 150.000, 200.000 uomini, questo ci dà un'idea dei numeri che ha perso la Russia in quasi tre anni di guerra. Ciò nonostante, questo fra l'altro mi collego, non voglio fare nomi, però mi collego anche a filorussi da strapazzo che vengono intervistati in televisione anche in Italia e che in qualche modo hanno espresso, come devo dire, contentezza per questo incremento degli assalti e della conquista di territori da parte russa. È vero, nel senso, è vero che in quest'ultimo mese i russi stanno occupando molto più territorio, c'è stato evidentemente il comando di avanzare a tutti i costi, anche in previsione delle elezioni presidenziali americani per mettere sotto pressione la Nato, l'Europa, gli Stati Uniti in generale. Lo stesso Sikorski, scusate, ha appunto descritto quest'ultimo mese come la più grande offensiva russa dall'inizio dell'invasione, cioè in quest'ultimo mese abbiamo visto il maggior numero di assalti, il maggior numero di perdite da parte russa, i loro maggiori sforzi per avanzare. Ok? Questo è vero, nel senso, i numeri che hanno messo in campo in termini di uomini sono stati spaventosi, così come sono state spaventose le perdite, quindi io non sarei tanto felice. Ecco, lo dico, lo specifico, nel senso, se io fossi filorusso, se amassi la Russia, non sarei felice di una situazione del genere, non sarei felice di vedere decine di migliaia di soldati, una cifra media intorno a 1000-1200 soldati al giorno, perdere la vita per una guerra di invasione, non sarei felice. onestamente. Quindi chi ama la Russia sa bene che tutto questo è sbagliato e non a caso vi invito a sentire qualche volta qualche video di Inside Russia di Konstantin, che lui è un russo e parla della Russia, quindi lasciate perdere gli italiani che parlano a favore della Russia, lasciano il tempo che trovano. E' gente che non ha capito niente, onestamente. Qui, scusate, qui parla la segretaria inglese permanente alle Nazioni Unite, ogni tanto qualcuno alle Nazioni Unite che parla seriamente c'è, in sostanza mette in allarme la situazione e dice Putin vorrà continuare con queste azioni. Non è che adesso se domani viene eletto Trump o la Harris cambia qualcosa, non è che se all'improvviso smettiamo di fornire armi all'Ucraina Putin si ritira, non è che se la Nato non mette insieme aiuti e manda supporto logistico all'Ucraina la Russia smette. Lei parla appunto di 10.000 soldati nordcoreani che sono stati inviati in Ucraina. La situazione insomma è grave e probabilmente secondo la mentalità putiniana lui deve continuare così anche per sostenere l'economia di guerra perché altrimenti la Russia sarebbe completamente al collasso, quindi lei fondamentalmente dice che Putin non si fermerà di certo all'Ucraina. La situazione al fronte non ci sono grossi cambiamenti rispetto a ieri, nessuno nella regione di Kursk, da quello che posso segnalarvi. Leggo di un minimo avanzamento per chi mi chiedeva nella regione di... nella zona di Kharkiv, in particolare a Voynchask qui, dove le forze ucraine hanno ottenuto un piccolo avanzamento in quest'area dove c'era una volta l'ospedale. Questo viene riportato in questo articolo dove si vedono appunto azioni di artiglieria presso il quartiere in cui era presente l'ospedale qui. Altre azioni non si vedono per tutta la linea del fronte, non ci sono stati i cambiamenti fra ieri e oggi, come vedete, praticamente è rimasto tutto invariato per centinaia di chilometri. Ci spostiamo nella zona di Chasiviar, anche qui niente, non è successo assolutamente niente. Un piccolo progresso lo hanno ottenuto le forze ucraine nella zona di Toresk. Come vedete c'è stata una riduzione di presenza russa qui al villaggio di Zubha, credo si pronunci così. Vedete, fra ieri e oggi gli ucraini hanno liberato quest'area, questo caseggiato. Mentre ovviamente verso Pokrovsk la situazione è rimasta sempre invariata nella direttiva principale, ma i progressi russi continuano a ottenerli verso Kurakove e tutta la zona a sud-est. Tra ieri e oggi hanno guadagnato qualche chilometro in più direzioni, come vedete. Quindi questa è la situazione al fronte. Ora, restando a parlare di questo, poi ci sono stati attacchi dronici stamattina da parte russa, qualcosa come 80 Shahed sono stati lanciati contro il territorio ucraino. Lo ricordo, questi sono droni esplosivi iraniani, giusto per ricordare appunto chi sono gli alleati della Russia e 77 di questi sono stati abbattuti, 50 dalla artiglieria combinata con le azioni dell'aviazione e 27 dalla guerra elettronica. Questa è un'immagine di Kiev stanotte, giusto per intenderci. È un'immagine a lunga esposizione, credo, a un video, preso da un video, in cui si vedono appunto i traccianti dei sistemi antiaerei. Comunque qualcuno di questi droni poi è arrivato, anzi una bomba planante è arrivato a Kharkiv, non vi posso mostrare le immagini, giusto brevemente, un centro commerciale è stato colpito, tanto per cambiare. Arrivano poi notizie dei soldati nordcoreani che, come voleva si dimostrare, sono stati inviati al fronte, quindi mi dispiace, filorussi in ascolto non erano lì per fare campeggio, non erano lì per imparare l'arte della guerra lontano dal fronte, no, sono stati mandati lì avanti insieme a tutti gli altri come carne da cannone. Precisamente sono stati comprati dalla Russia in cambio di un poco di riso, di un pugno di riso da spedire indietro alla Corea del Nord, di certo non alle famiglie di quei soldati. La vita dei soldati nordcoreani non vale niente, in patria, figuriamoci, in Russia, questo bisogna dirlo. Ora, chiaramente qualcuno utilizza cosa già per fare ironia, infatti dice improvvisa rottura delle relazioni fra Russia e Corea del Nord dopo che Steven Seagal ha divorato tre soldati nordcoreani, non è vero, è una fake news. Mentre non posso dire che questa lo sia, lo vedete questo passaporto? Beh, dietro il passaporto c'è un soldato apparentemente nordcoreano a terra, quindi si contano le prime vittime e sono stati già, confermo quello che veniva detto ieri nel mio video di un soldato russo che parlava di fuoco amico. Infatti, a quanto pare, le vittime fra i soldati nordcoreani sono state causate dal tiro di mortaio russo. Ora, ho visto anche altri video in cui pare che non ci siano buoni rapporti fra i soldati russi e i soldati nordcoreani, non parlano la stessa lingua, non riescono quindi a coordinarsi, non hanno gli stessi costumi e fra l'altro il video che vi ho mostrato ieri sul cosiddetto cibo in scatola, non per cani ma di cane, non è stato gradito dai soldati russi che possono sicuramente vivere in condizioni estreme, non hanno il bagno a casa, non hanno la lavatrice, però ecco un minimo per non mangiare la carne di quel tipo ce l'hanno, quindi ecco questa è la situazione. Gli articoli che parlano dei problemi su dei soldati nordcoreani ci sono e sì, quindi sono già sul campo e stanno subendo le prime vittime. Riguardo il malcontento dei soldati russi, ne arrivano a bizzeffe di video, questo per esempio è un cosiddetto ingegnere, anzi scusate, geniere, dovrebbe essere una di quelle persone pensate per pianificare i ponti, pianificare le trincee, lavorare su quel tipo di strutture e in questo video lui decisamente non apprezza di essere stato mandato avanti insieme a tutti gli altri in questi mezzi d'assalto, a che serve una figura così dovrebbe lavorare nelle retrovie, quindi non solo genera malcontento, ma spreca, la Russia spreca anche risorse preziose. Restando sempre in tema di risorse sprecate, di questo articolo dice è morto annegato in Carelia durante una buttuta di pesca uno dei colonnelli di Prigozin, morto annegato, la pesca è decisamente pericolosa. No comment. Gli ucraini hanno distrutto poi un sistema di lancio per missili ipersonici russi, il Kinjal che vediamo in queste immagini, questa è un'ottima notizia, fa piacere. Il Kinjal è un missile che può essere aviotrasportato, lo vedete in questa immagine, oppure può partire da terra, in genere quando parte da terra prestazioni decisamente inferiori, perché è un missile, allora, continuo a ripeterlo, è un missile ipersonico perché supera Mach 5, però non ha un motore esotico, ha un motore a propellente solido, tradizionale. Se le dimensioni sono enormi di questo missile, ecco, in questa immagine si capisce quanto è grande, insomma, se fate presente quanto è lo sportello, questi sono mezzi piuttosto grossi. Ecco, vediamo in proporzione, dovrebbe esserci un'immagine, ecco, qua si capisce quanto è grosso. Quindi, può partire da un MiG 35, come da un Tupolev 22, o da terra. È chiaro che nel momento in cui parte da un aereo, può esprimere al meglio le sue velocità, che si parla di qualcosa come Mach 10, dieci volte la velocità del suono. È possibile nel senso che, avendo una massa così grande, tanto carburante, può raggiungere come punto massimo della sua velocità, può raggiungere quella, quell'accelerazione, quella velocità, lo può raggiungere. Però poi dopo va in balistico, è un missile balistico, fondamentalmente. Può manovrare, però la traiettoria che fa è quella. E una volta che poi scende, perché in genere è un missile che ha una tangenza intorno ai 20 km di quota, sia che parte da terra che dall'aria, deve comunque andare in aria rarefatta per poter esprimere quelle velocità, perché non esiste nessun oggetto della fisica in grado di viaggiare oltre Mach 2,5, Mach 2 a livello del mare. È impossibile, perché l'attrito dell'aria è troppo forte. Quindi il missile ad alta quota raggiunge sicuramente quelle velocità, ha un raggio di circa, se parte da un aereo, di circa 2000 km, sicuramente meno se parte da terra. Poi, però, quando si avvicina al suolo, rallenta. Infatti ci sono anche video in cui si vede che è stato intercettato. Nel tratto terminale, insomma, si concentrano tutti gli sforzi per intercettarlo. Quindi è un buon colpo da parte ucraina l'eliminazione del sistema di lancio e dei missili in sé. Notizia della Rain Metal. Qualche giorno fa, anzi, non pochi giorni fa, credo già un paio di mesi fa, avevo parlato dell'intenzione della Rain Metal, che è l'azienda tedesca più importante in Europa per la produzione di mezzi pesanti, sistemi d'arma in generale, molto tecnologici. La Rain Metal ha aperto la succursale in Ucraina. Questo è un ottimo, ottimo lavoro, sia per quanto riguarda la produzione di questi mezzi, che poi andranno a rinforzare le forze armate ucraine, sia per l'assistenza, la manutenzione, che in questo modo i mezzi sul campo non devono tornare indietro in Germania. Insomma, questa è un'ottima notizia. Poi, vabbè, questa è un'immagine di un Su-27 ucraino, un aereo bellissimo, sinceramente penso che sia uno degli aerei più belli del mondo, anche se il russo è uno. Io non sono così estremo, nel senso, quello che è bello è bello, bisogna dirlo, bisogna riconoscerlo. Il Su-27 è un bel aereo. Gli ucraini utilizzano la prima versione del Su-27, che è un po' indietro, come tecnologia è anni Ottanta, per intenderci. È strano che abbiano modificato i piloni esterni, qui alle estremità alari, alle tip alari, loro montano, quelli russi montano in genere altri missili, aria-aria, i missili a corto raggio, gli R-73, oppure su questi piloni, su queste rotaie esterne, possono essere montate dei pod per la guerra elettronica. A quanto pare, le forze aeree ucraine hanno modificato quest'aereo nei piloni, infatti spesso si vedono armi americane, montate sotto il Su-27 ucraino, come la GM-88, per esempio. Parliamo di elezioni americane. Ora, io sto seguendo la cosa, anche se non ne sto parlando molto nel mio canale, non posso farlo, per ovvi limiti di restrizioni di YouTube. Però, quello che ho sentito, perché ovviamente, seguendo la questione, seguo i canali americani, non di certo italiani, gli americani sono stanchi di questa situazione. Se lo siamo noi, se, ecco, se in Italia siamo stanchi di sentir parlare di questo soggetto, figuriamoci in America quanto sono stanchi. C'è un po', no, la dialettica che usa, il modo di porsi. Gli americani sono davvero stufi di questo personaggio, almeno la maggioranza, possiamo dirlo, perché in quasi tutti gli stati sta vincendo la Harris, attualmente, almeno, quasi tutti no, però una grossa fetta degli stati ce l'ha in mano la Harris, in alcuni con, almeno quelli più numerosi, con un discreto vantaggio. Quindi, ecco, ci sarebbe da parlarne tanto, però, insomma, secondo me ha raggiunto un po' il limite. Ecco, lo dico così. Cioè, giusto, per intenderci, un personaggio che ha i comizi, fa gesti del genere, secondo voi, che cosa sta cercando di dire? E la gente lo applaude, voglio dire. Oppure che dice, eh, i miei comizi è sempre pieno di gente, nessuno va via, i miei stati sono pieni. E poi il cameraman del comizio, che evidentemente non ama la questione, inizia a fare una carrellata e mostra che in realtà lo stadio è semi-deserto. Non semi, però ce n'è di posti vuoti. Allora, date un po', voglio dire, tutta la parte alta dello stadio è vuota, insomma, vabbè, per dire, no? Cioè, per quanto riguarda la narrazione. E proprio sulla narrazione poi chiudo il video di oggi, che riguarda la ragazza israeliana, scusate, la ragazza iraniana di cui vi ho parlato ieri. Era una studentessa che ha deciso di protestare perché la polizia morale le ha detto di correggere il modo in cui vestiva lì già e lei ha deciso di protestare in questo modo. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo e tutti ne stanno parlando come una delle immagini del secolo. Voglio dire, è innegabile questa cosa. La protesta delle donne in Iran non è un problema da poco, non è una cosa di cui parlare alla leggera. E quello che fa veramente tristezza è che la propaganda iraniana ha iniziato subito a far circolare voci per cui questa ragazza fosse non sana di mente e che avesse dei disturbi mentali. Insomma, hanno cercato di infangarla e la cosa più triste è che in Italia qualcuno ha iniziato a diffondere queste fake. Quindi ecco, no, direi che bisogna dire le cose come stanno e insomma questo è. E niente, come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e un abbraccio. Alla prossima!